E ora una chicca, la catenella e il dito. Prendo la catenella, così la facciamo intorno al dito ed è la catenella stessa a passare attraverso il dito. Te lo voglio fare ancora una volta, la catenella e il dito. Prendo la catenella, così la torcigliamo intorno al dito ed è la catenella stessa a passare attraverso il dito. La catenella e l'anello. La catenella stessa a passare attraverso il dito.